buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi tratteremo l'argomento sull'aggiornamento delle gradatori provinciali per le supplenze andiamo subito alla prima domanda l'aspirante supplente delle gps cosa deve fare per entrare in gradatori ed ambire i posti per riservisti i candidati interessati ai posti riservati per alcune categorie protette oltre a dichiarare il titolo di riserva devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge numero 68 del 1999 in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda coloro che non possono produrre tale certificazione di disoccupazione perché occupati a tempo determinato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta qual è l'ordano competente a cui fare ricorso per quanto riguarda i punteggi le posizioni delle gradatorie provinciali per le supplenze e per i punteggi delle gradatorie istituto diciamo subito che il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale pubblica sul sito internet del proprio ufficio le gps analogamente sono pubblicate all'albo di ciascuna istituzione scolastica le gradatorie per gli insegnamenti iv impartiti le correlate gradatori di istituto avverso il presente presente provvedimento e ammesso ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente tar entro 60 giorni dunque l'organo competente è il tar dunque bisogna ricorrere al tar ricordiamo che queste gradatorie non prevedono diciamo un una prima pubblicazione e poi dove si può reclamare e eventualmente una seconda pubblicazione purtroppo si deve intervenire direttamente col tar qualora non venisse raccolte i reclami in prima istanza domanda numero 3 i titoli di servizio come vengono dichiarati come viene valutato il servizio insegnamento della religione cattolica allora ciascun titolo può essere dichiarato una sola volta come o specifico o a specifico ricordiamo che la specifico vale metà punteggio rispetto allo specifico a scelta dell'aspirante chiaramente per ciascuna gps di inserimento e comunque per un massimo di 12 punti complessivi come servizio specifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso o tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle che sono presenti nel decreto un ministeriale il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi a specifici speriamo che le risposte che abbiamo dato possano essere utili ai nostri lettori e continuate a seguirci nel nostro sito www.tecnicascuola.it e nei nostri social il canale youtube facebook facebook e anche instagram arrivederci a tutti ciao 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 ciao